buongiorno a tutti allora dal momento che uno dei principali commenti che leggo sempre sotto i miei post con con un certo gaudio nel senso per fortuna sono contento ma solitamente la gente mi scrive complimenti per il tuo talento complimenti per la tua mano ti invidio veramente tanto certo mi scalda il cuore questo commento grazie mille però è completamente fuori strada non ho mai avuto i mezzi necessari per per dimostrarlo oggi ce li ho ho delle prove perché sono andato in casa dei miei e ho trovato ho un po raccolto i miei vecchi disegni che ho trovato in giro un paio di cose da dire intanto il primo è che sono sempre stato così come sono quindi anche da piccolo anche da bambino tutta la roba che non mi piaceva la buttavo via e quindi tantissima roba è finita strappata chissà dove e secondo punto io ho sempre disegnato saltuariamente veramente una volta ogni tanto quindi non è che abbia questi grandi disegni da mostrare ok questi sono quelli che sono sopravvissuti per fortuna ma non è che io abbia delle risme di fogli quando ero bambino anzi e infatti oggi vediamo gli ho raccolti in questo bellissimo album che a quanto pare non era neanche mio perché è stato cancellato il nome non ho idea non ho idea comunque non sono contentissimo di fare questo davanti a persone ma eccoci qua primo piccolo capolavoro allora tendo a puntualizzare il fatto che questi disegni qua secondo me vengono tutti dal 2005 2006 dovremmo essere riusciti io sono 94 quindi 30 anni spaccati vuol dire che ne avevo tipo 12 11 12 vi direi primo piccolo capolavoro qua ero nel mio periodo naruto sapete quando vi dico non fate le cose senza reference cercate di aiutarvi sempre con una figura ecco perché ci sono passato quindi bene o male so quello che voglio dire o signore non so non so cosa fosse non so cosa volessi fare ma bella ombreggiatura faccio vedere magari qualche piccolo paragone con oggi giustamente per chi non mi conoscesse fosse passato di qua per la prima volta ecco questo è il mio piccolo capolavoro di prima media e questo è quello che faccio oggi su uno sketchbook senza troppo impegno non è che gli faccia occhi chiusi è per l'amor di dio anzi però insomma questa è la differenza che si può raggiungere ok poi affronto il discorso dopo ma tanto facciamo un piccolo tour in mezzo a questi obrobri eccoci qua idem come prima non ci vuole un genio a capire che questa roba qua questo è un personaggio che ho inventato io direi pessima idea mi ripeto quello che ho detto prima non inventate le cose se non avete bene un'idea di quello che state facendo perché vi ritrovate con questo e nulla più ho un bel rock lì anche qua questo è il periodo naruto rinvasatissimo in quella in quell'età lì non c'è troppo altro da dire questo è anche proprio un fogliaccio di quelli proprio belli leggeri che non riesci manco a far vedere il tratto non dai profondità niente proprio così che vergogna allora questo è già un po meglio questo è già un pochino meglio forse magari più grandicello di qualcosina ho avuto anche il mio periodo spider-man che in realtà non è mai morto sono rimango comunque grande fan della trilogia di raimi ogni tanto la riguardo c'è sempre il periodo spider-man però insomma cioè anatomia un po quella di un rospo oh qua un altro bel original character suppongo beh dio mysterious il mio personaggio originale eccolo qua bene altro personaggio originale questo ho fatto la questa è la mia firma di oggi con la mia firma da bimbo comunque abbastanza simile sono io non non penso ci fosse bisogno di grandi prove beh che dire vi lascio leggere a voi ma non forse non è il caso di leggere non so da dove cominciare lasciarli così dovete sapere che io da davvero piccolo proprio da ragazzetto ho avuto anche mio periodo graffitaro io non so se qualcuno di voi si ricordi magari qualche millennial casca di qua c'era un gioco per play 2 che mi pare si chiamasse train magari dico una cagata ma secondo me si chiamava così in cui dovevi andare in giro a fare il vandalo fondamentalmente quindi andavi lasciavi la tua effigie sui muri andavi proprio a rovinare qualunque palazzo pubblico andavi in giro a fare graffiti no e non so perché la cosa mi ha preso più del dovuto e ho detto anche io voglio fare graffiti quindi non li ho mai fatti in giro qualche piccolo delitto minorile me lo sono evitato però ho fatto i miei schizzi questo era uno dei miei grandi delle mie grandi idee check a quanto pare era il mio tag che vergogna veramente non commento oltre questo qua non è il caso qua c'è proprio qualche tag questo non è neanche male non mi fa schifo poi vabbè gli altri veramente però mi vergogno profondamente di questo periodo mio della mia vita quindi lo passiamo un attimino oh questo questo è proprio delle elementari secondo me questo è proprio vecchio tanto ha visto sicuramente più anni che persone questo disegno e vabbè dragon ball chiaramente grande classico grande colorazione a matita devo dire mi rende veramente tanto faccio vedere anche magari qua un piccolo paragone che vabbè lascia il tempo che trovo però dal mio ultimo sketchbook ecco qua questo è un acquerello che ho fatto con un po' di matite colorate questo qua è un po' una un po' una tecnica mista ecco qua il grande paragone così almeno ovviamente non ha senso fare paragoni di vent'anni però per darvi un'idea che non è tutto lento non è vi assicuro che nessuno nasce imparato questo è il messaggio principale del video poi un'idea fatevela voi per l'amore del cielo vi dico che ci sono passato oh altro grande personaggio mio inventato bello altro grande graffito basta graffiti per l'amore spero non ce ne siano altri ah no c'è di meglio ecco qua un bel ritratto bel ritratto iper realistico di un mio compagno di classe mi ricordo che in prima media quando ho fatto questo bel tentativo dal vivo mi ricordo ho effettivamente dei ricordi di questo l'ho fatto proprio dal vivo difficile da credere in senso che è patata bollente però vabbè quando vi dico che anche i tratti è una cosa che si impara che si affina non vi dico una balla torniamo qua grandi schizzi oh la bel più piccolo di così veramente era impossibile farlo non so cosa cosa ci avessi addosso vabbè anatomia impeccabile neggi qua periodo naruto era proprio invasato si vede tutto storto se ne fosse uno dritto basta oh qua torniamo un po indietro di qualche anno secondo me qua ero proprio piccolo super angel super angelo nel caso non arrivasse il messaggio è proprio superman superman con le ali da angelo la grande creatività che mi ha contraddistinto per un po di anni quella quella innata che mi sono ritrovato così da nulla qua un po di lezioni di un po di lezioni di anatomia anche qua questo non so cosa c'è questo del 2007 è l'unico con la data è l'unico ma secondo me era un esercizio un compito a casa tipo perché in seconda media secondo me questo qua non c'entra tanto non so perché si è finito qua in mezzo ma ho sempre odiato con tutte le mie forze il disegno tecnico è proprio una cosa che non mi compete sporco il foglio solo a guardarlo sono veramente un cane con un compasso in mano quindi proprio non è la mia cosa super bu questo vabbè non è neanche terribile non so che razza di fogli siano sembrano carta igienica non so dove le metterti fuori ah qui ci sono anche delle mie anche sceneggiatore mi sono improvvisato da ragazzino non solo disegnatore perché mettevo anche proprio i dialoghi no ecco te lo sei meritato maledetto bastardo da parte di spider-man che le pende da wolverine non lo so non è neanche cioè mi sono sbattuto a fare questo disegno questo è sicuramente una roba che richiede delle ore dell'impegno vabbè c'è di peggio questo non mi ricordo non ho idea di dove l'abbia preso non sono sicuro sia un mio personale è troppo elaborato per essere mio penso di averlo copiato da qualche parte ma onestamente non mi ricordo comunque questi schemi qua servono come per stare all'acqua nel mortaio veramente stessa utilità perché poi vado completamente a caso anche qua doveroso un piccolo paragone faccio vedere come come evolve la colorazione nel giro di vent'anni ecco qua questo è uno dell'ho fatto quest'anno forse comunque ma qualche mese sto sketch qua con i guazzetti anche qua faccio vedere un bel paragone perché no è questa roba qua una prova più empirica di questa io non la so trovare quindi farvi capire un attimo che è normale cioè è veramente normale passare una fase in cui fai veramente schifo a disegnare perché non ho mai conosciuto nessuno che non l'abbia passata e oggi ve lo dico proprio a squarciagola e questo non mi sento neanche di commentarlo tanto perlomeno stavo per dire almeno gli occhi sono dritti ma in realtà manco quello pure con la riga sono riuscito a tirare gli storti acqua beh per chi nessuno penso che lo sappia non penso di averlo mai detto ma ho avuto un periodo di stan proprio amavo e veri la vigna infatti quest'album qua under my skin sono abbastanza sicuro che sia 2004 infatti i conti tornano e vabbè questa è veri la vigna era la cover dell'album è quello è quello che è perlomeno il foglio è spesso mi sono un attimo non ho preso un fogliaccio a caso l'unico piccolo merito che mi posso concedere ah anche qua sempre piccolo esperimento da sceneggiatore oltre che grande artista ora basta ti strappo la pelle pur di farmi pagare questo quanto pare era il mio umorismo a 11 anni umorismo non lo so cinico cinico capitalista ai tempi e arriviamo mi sarà la chicca finale siamo agli sgoccioli un cavaliere cavaliere osceno vedete nel suo dettaglio beh questo non è neanche malissimo dai in confronto agli altri questo qua ha persino abbastanza senso considerando che penso di averlo inventato ma non ci metterei la mano sul fuoco e anche qua magari faccio vedere una piccola evoluzione del tratto per vabbè questo qua non è uno dei miei migliori schizzi per l'amor del cielo però non mi fa non mi fa schifo perlomeno ha un suo perché ok quindi questo anche bel paragone chiudo facendo un discorso abbastanza serio al di là delle mie cagate da ragazzino il disegno in senso lato è veramente una cosa che si impara cioè io più di così non so come dimostrarvelo io apprezzo tanto i commenti che dicono hai veramente una bella mano cioè mi fa veramente piacere per l'amor del cielo ci mancherebbe però allora siamo almeno cerchiamo di essere onesti intellettualmente il talento ovviamente esiste ok poi talento secondo me non è il termine cioè è un termine quasi controproducente cioè è stupido utilizzare il termine talento secondo me si parla di essere portati ha già un'accezione più più realistica più terra a terra cioè esiste ovviamente chi è più portato di altri ok questo è poco ma sicuro sarebbe da ipocriti negarlo tuttavia non vuol dire che se qualcuno nasca portato in qualcosa allora abbia vita facile e sia già fatta cioè questo deve essere chiaro ok non tutti sono destinati a farla l'artista di professione e non tutti vogliono oltretutto cioè non non sta scritto da nessuna parte qualcuno voglia farlo solo perché è bravo e sì qualcuno avrà vita un po più facile di altri perché è predisposto naturalmente ora non so di preciso perché ma comunque questo è sicuro ma ciò non vuol dire in nessun modo mai nella vita che qualcuno non si possa comunque godere il disegno appieno come hobby per quanto una persona possa essere impedita o magari poco portata è matematico è scritto nelle stelle che con tanto impegno e tanta voglia comunque migliorerà cioè questo è sicuro non ho il minimo dubbio su questo e sarà un miglioramento che consentirà di godersi lobby a pieno di vedere grandi passi in avanti con il tempo e con la voglia perché senza quelli lì non migliora nessuno questo è poco ma sicuro e quindi prendete il disegno per quello che è cioè deve essere in primis un divertimento una cosa che ti appassiona e dici voglio proprio migliorare voglio voglio vedere dei passi in avanti e quindi mi ci metto seriamente perché è una cosa che mi diverte mi rilassa poi il punto di vista professionale lasciatelo perdere cioè un artista professionista non è detto e non sta scritto da nessuna parte che sia per forza più talentuoso di qualcuno che lo fa per hobby e questo è anche bene specificarlo magari ci farò un video in futuro perché è un argomento veramente ampio complesso ha bisogno di un po di contesto non lo posso sviscerare qua in 30 secondi però insomma questo era più o meno quanto avete visto che le cose si fanno con il tempo con la pazienza se uno veramente ci si mette magari non siamo tutti michelangelo qualcuno non lo diventerà mai ma sicuramente si divertirà lo stesso se se la prende come una passione come una cosa come una cosa relativamente seria ok quindi se avete magari idee per altri video scrivete quello che vi pare nei commenti tanto lo sapete non bene o male le leggo tutti e non sto a rompere le balle scrivete quello che volete e direi che questo sarà quanto vi ringrazio per per la visione e boh a presto baci baci a tutti